Ciao amici, bentornati sul canale Giornali del Popolo Italiano. Incastrati 2 si farà. La data di uscita della seconda stagione con Ficarra e Picone su Netflix La seconda stagione di Incastrati è già stata annunciata da Netflix. Ficarra e Picone sono tornati sul set lo scorso maggio, per girare i nuovi episodi. Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo. Incastrati, la serie che ha segnato l'esordio di Ficarra e Picone su Netflix, ha avuto grande successo ed è subito schizzata in cima ai prodotti più visti sul catalogo della piattaforma. Complice una struttura veloce da sei episodi di breve durata, ma soprattutto un finale aperto, gli spettatori che mercoledì 7 dicembre e giovedì 8 dicembre avranno modo di vederla anche su canale 5 e si chiedono se quando Incastrati 2 si farà per continuare a seguire le avventure di Salvo Ficarra e Valentino Picone. Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo. Quando esce la seconda stagione di Incastrati su Netflix Netflix ha ufficializzato la seconda stagione di Incastrati lo scorso gennaio, pubblicando sui profili social della piattaforma di streaming, un simpatico video di Ficarra e Picone. Quanto alla data d'uscita di Incastrati 2, al momento non sono state ancora diffuse informazioni ufficiali in proposito, ma è altamente probabile che sarà possibile godere dei nuovi episodi nell'arco del 2023. Le riprese hanno avuto inizio a Palermo a maggio del 2022. Le anticipazioni di Incastrati 2 e dove eravamo rimasti secondo le prime indiscrezioni trapelate, anche nella seconda stagione di Incastrati, Salvo e Valentino si ritroveranno indischiati loro malgrado in un caso di omicidio. Ma vediamo dove eravamo rimasti. La prima stagione si chiude con un finale aperto. Nel sesto episodio Salvo e Valentino hanno ripreso il loro tran tran quotidiano, dopo essere stati tratti in salvo dalla polizia. All'apparenza, il capo della cosca mafiosa Padre Santissimo, di cui non sveliamo l'interprete per non fare spoiler, non sembrerebbe essere più un problema, ma proprio dopo un curbone il furgoncino dei due protagonisti si ritrova di colpo una sagoma addosso. Con la paura di averlo investito, e quindi ucciso, scendono dal furgoncino e scoprono che quell'uomo rimasto a terra è proprio Padre Santissimo. Nella sequenza successiva, sbuca cosa inutile, Tony Sperandeo, tenendo sotto tiro i due poveri malcapitati. Titoli di coda. La seconda stagione si farà. Il cast di Incastrati 2 Anche sul cast di Incastrati 2 non ci sono ancora certezze, ma considerato che sono ancora tanti i misteri da sciogliere, incluso l'identità del vero assassino di Alberto Gambino, il cast potrebbe essere confermato in toto. Quindi, con Ficarra e Picone, ci sarebbero ancora una volta, Tony Sperandeo, Maurizio Marchetti, Marianna Di Martino, Anna Favella, Filippo Luna, Sergio Friscia, Leo Gullotta, Sasa Salvaggio. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.